ciao ragazzi ciao a tutti sono vgfuture ben ritrovati su mucchio tv oggi faremo un esperimento stavolta per la youtube gaming challenge ci sarò anche io che giocherò cioè io userò proprio il mio personaggio e ho intenzione di fare un mini torneo che nello specifico sarà un elimination tornado tag dove ci sono appunto le coppie tag team che si sfidano con un'altra coppia di tag team però se si elimina una persona l'altro rimane a combattere andiamo subito a cominciare championship youtube gaming challenge superstar super star causale no mantenimento danni facciamo sì vediamo che succede tipo di match elimination tordano tag e accendiamo eccoci qua nella schermata del torneo ragazzi allora come vedete è stato introdotto un altro personaggio creato un altro personaggio e l'ho piazzato come sto parlando di maurizio merluzzo e ce la vedremo contro andrea di pre e giuseppe simone poi gli altri li vedete già l'avete imparati a conoscere negli altri negli altri video da svapem crew col santone e scarti poi ci sta daniellino e wender insieme uscire pure così è stato chiamato comunque non c'è poi c'è cristian hains e matteo montesi contro quei due sul server poi ci sta fravzezeb 89 e per ultimo iotobico sabacu nomarico e va bene ragazzi andiamo a cominciare questo torneo al primo incontro è proprio io e merluzzo contro andrea simone giuseppe simone vai eccoci qua tutti e quattro ragazzi ripete un elimination tornato tag quindi ci picchiamo tutti insieme ma tutti sti incontri li farò tutti contemporaneamente quindi mettetevi comodi e vediamo come va a finire comincia ragazzi madonna ragazzi ti distruggono ma che bello non lo posso controllare io il mio personaggio vieni qua di pre vieni qua oddio eh volevi guarda quel di pre eh io sono un campione qua intanto pure merluzzo si sta dando da fare vieni qua vieni qua madonna spacco tutto di pre ti spacco tutto alzati 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 uno ad uno e una volta non faccio il commento ma sono parte attiva oh 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 lascia stare a merluzzo spacco tutti madonna ragazzi vabbè lo schieno ma si alzerà sicuramente avete capito se uno dei due perde l'altro continua a combattere alzati 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 madonna vieni alzati beccati questo di pre madonna che bello poterti picchiare dal vivo vieni qua oh yeah boom oh no 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 madonna di pre boom ue 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 giuseppe simone sta interferendo devo andare da subito che cavolo fa merluzzo si è bloccato boom boom lascia stare a maurizio merluzzo che quello poverino non ce la fa da sola alzati pure te vai a picchiare giuseppe simone qua me la vedo io tra l'altro maurizio merluzzo io e maurizio merluzzo abbiamo la stessa altezza siamo da due One e Ultimately bene così gli e andiamo a schienare vai veloce ancora che si alza come osi alzarti ti spacco la testa madonna ragazza ancora quel povero merluzzo sta ancora tenendo picchiato aspetta lo vado a aiutare lascia stare lascia stare lascia stare spacco tutti madonna ragazzi bravo merluzzo però non ce l'ho fatta per esempio stiamo facendo tutto io spai mossa caricata mossa caricata subito noi lo distruggiamo un poco a di pre madonna vieni qua di pre vieni qua BOOM oh ok mo penso che ce l'abbiamo fatta dai che non ti alzi più allora uno due e tre e uno l'abbiamo rimanato giuseppe simone mo ti spacchiamo in tu ti spacchiamo eh eh maori fatti un po' i fatti tuoi eh fatti un po' i fatti tuoi fammelo distruggere un attimo perché sono qua questa registrazione non finisce mai più dai madonna giuseppe simone rimani a te dai dacci un pugno pure tu dai facciamo così dai mettimelo per terra bene così oh oh come ti permetti ma come ti permetti come os oh oh eh ma Maurizio Merluzzo oh ma che non fai contro di me cioè non me lo vuole picchiare lui che poi l'ha pestato pure Merluzzo tra l'altro io ho messo oh ho messo che i danni rimangono eh quindi è più difficile dai bravo Merluzzo forza forza boom diamo la schiena uno due e vai primo incontro alla grande yeah e questo primo incontro è andata ragazzi premo subito perché sennò registrazione non finisce mai più dai festeggiamo Maurizio festeggiamo dammi la mano forza sì lo so ho vinto io lo so sono stato un aiuto concreto ok oh non mi da ordine non ti permettere di darmi ordine tanto ti sfido a braccio di ferro ti apro in due Maurizio Merluzzo allora la situazione è questa primo incontro abbiamo vinto io e Maurizio Merluzzo secondo incontro ci sarebbe la swap and crew contro Danielino e Wender e ora lo andiamo a simulare vediamo chi vince la swap and crew quindi ha vinto il santone e Scartico cui dopo ce la dovremo vedere terzo incontro ci sta Cristian Ice e Montesi contro quei due sul server simuliamo vediamo chi vince quei due sul server hanno vinto grande ultimo incontro Frabs e Zeb89 contro Yotobi e Sabacuno Maiko vediamo chi vince hanno vinto Zeb e Frabs va bene allora ragazzi andiamo a fare io e Maurizio Merluzzo contro la swap and crew madonna santone quanto te lo devo dare madonna ragazzi dai e vai si comincia Scartico sei tu il mio obiettivo boom questo funziona sempre tante ore che ho qua sopra ormai sono diventato fortissimo alzati ecco bravo così Scartico rimane così boom il santone poverino è basso quindi deve deve buscare da Maurizio Merluzzo poi Scartico invece è alto Scartico 1,90 oh è sceso il santone un po' di lag ragazzi vediamo qua sotto se si può prendere non so se si possono prendere le cose però vedo che comunque non non conta madonna ok non ti permette Scartico Scartico ma vedi quindi si può combattere pure fuori che non si conta allora mi conviene andare su perché sennò non si vede bene l'inquadratura ci carichiamo un pochino dai Scartico vieni su fare così boom prima mi batto e dopo mi faccio pure una svapata boom ah le cose quando li controllo io il personaggio vanno leggermente diverse che vuoi fare Scartico stai calmino stai calmino Scartico boom oddio che cosa sta succedendo vediamo se riesco a schienarlo a Scartico no si è rialzato Scartico oh Scartico si incazza mossa finale boom il Santoni invece di venire aiutare Scartico preferisce picchiare Maurizio Merruzzo oh si è rialzato Scartico non ci sta un cavolo da fare lascia rizzare a Maurizio mi stava venendo a picchiare il Santoro non ce la vuoi far Santoro io sono imbattibile finossi mossa finale caricata grande vai boom dai che pure scarpe scarpe è andato forza uno oddio pure Maurizio Merruzzo uno è andato forza Maurizio pure quel nano del Santone perderà grande bella Mauri bella momenti salienti che non vedremo ragazzi altrimenti non finisce più questa anche se sono bellini da vedere si mettimi la mano qui dice Maurizio ok ancora dai yeah vai pure tu su Maurizio vai pure tu su non lo so mi facciano se fassi così daje daje mucchio selvaggio è cotto e frullato insieme per la vittoria ok ragazzi allora ecco i risultati allora io e Maurizio Merluzzo siamo arrivati in finale mo ci sta la semifinale dei quei due sul server contro Frabs e Zeb che andremo a simulare vediamo contro chi ci dobbiamo scontrare simuliamo ragazzi Frabs e Zeb 89 sono stati sconfitti e me la devo vedere con Synergo e Redez non li volevo picchiare però a quanto pare mi toccherà picchiare volevo picchiare più Frabs e Zeb 89 comunque andiamoci a fare questa partita vediamo che succede ma quanto sono fieri questi quattro personaggi eh la vedo male per quei due sul server eccoci ragazzi ed ecco la finale della YouTube Gaming Challenge questo mini torneo proprio contro Synergo sono andato a combattere va bene mi dispiace per te Synergo ma ti pesterò di brutto non avrò nessuna pietà né di te né tantomeno di Redez fuori forza boom vai come ti permetti lascia stare Maurizio Merruz Redez è fuori guarda ma no no io voglio picchiare voglio picchiare vabbè non fa niente per picchio Redez cosa credi di fare oddio Synergo sta picchiendo Maurizio devo andare in aiuto ah no l'ha buttato dentro aspetta vieni qua Synergo non fare il il simpatico con me li picchio a tutti quanti io che Maurizio si è addormentato ragazzi però voi mi dovete dire un altro youtuber che tiene la pazienza di fare tutti sti personaggi voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per personalizzare tutto ci vuole una vita per farli così bene vabbè sì ok il Redez è un po' più pompato ma è più bello alzati alza oddio madonna Synergo stiamo subendo ci stanno mettendo in difficoltà voi dove si serve vai 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 madonna aiutami Maurizio Maurizio aiutami Maurizio aiutami maledizione oh Synergo mi sta pestando di brutto guardalo la mincita pure ad alzarmi madonna ragazzi non ce l'ho fatta mi sta proprio pestando però Maurizio se la sta cavando madonna pensavo fosse più semplice no 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 tu cavale Synergo guardalo là non esageriamo Synergo boom lascia lascia stare Maurizio merluzzo alzati 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 boom no che cosa fa oddio mi ha beccato pure a me Redez ha beccato a me Maurizio alzati alzati che cosa succede guardalo là madonna ragazzi questo incontro non mi aspettavo fosse così difficile alzati maledizione madonna oddio ragazzi pensavo fosse più semplice madonna Synergo sta laggando madonna per fortuna che ce l'ho fatta devo andare a aiutare subito Maurizio oh sono fortissimi sti cavoli di QD di SS tu alzati tu alzati oh ma ce l'ha fatta o no no non ce l'ha fatta madonna che confusione io voglio fare la finale di mossa caricata su Synergo oh finalmente sono riuscito eh però guarda guarda la Redez che sta facendo grande Maurizio grande Maurizio forza 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 andiamo a schienare subito Synergo qua la situazione sta stavolgendo grande sono riuscito a schienarlo a Synergo eh sci fu eh mo dovrei essere per la par condicio intanto alzo la mano in segno di vittoria Redez mi dispiace ma sarà peggio per te ora ah tanti potuti di vincolati vieni qua ah ma Redez è stata spaccata la testa ci sta dai forza punta arbitro uno due oh si rialza cioè devi subire Redez devi subire oddio è un eroe forza sta mezzo ucciso ancora che si alza bravo Maurizio ci ha fatto la mossa finale schieniamo vai che questa muore la fine ce l'abbiamo fatta proclamati nuovi campioni però ragazzi è stato veramente difficile devo dire la verità non mi aspettavo questa resistenza dai QDSS ero proprio sicuro di vincere e invece mi hanno dato parecchio filo da torcere si dimostrano sempre i campioni nel gioco e nella vita momenti salienti delle mazzate ed ecco ragazzi questa ve la faccio vedere perché è giusto che la vediamo ecco la proclamazione della vittoria della YouTube Gaming Challenge eccoci che siamo felici ed esultiamo finalmente per la vittoria ecco la rampica di di là cintura bella fatta pure io grande bro ragazzi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se questa è la prima volta che siete qui e noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao